Molti italiani pensano che in fondo Mussolini era una brava persona, però non è così, era veramente una persona cattiva, al punto che fece chiudere e morire in manicomio il suo stesso figlio, che si chiamava come lui Benito, e la donna che l'aveva messo al mondo. Mussolini aveva due famiglie, quella con Rachele, da cui aveva avuto una figlia Edda, e quella con Ida dal Ser, che aveva venduto tutti i suoi beni per finanziare l'ascesa politica di Mussolini, e anche da lei aveva un figlio, Benito Albino, dovette riconoscerlo, ma poi non soltanto lo abbandonò. Quando divenne il Duce, ed ebbe il potere di far loro del male, disse toglietemeli di torno. Ida dal Ser fu chiusa in manicomio, e non era pazza, e morì in manicomio, e siccome Benito, Benitino lo chiamavano, insisteva nel dire io sono il figlio del Duce, anche lui fu chiuso in manicomio, sottoposto agli elettroshock e fatto morire in manicomio. Questo era Benito Mussolini. Benito Mussolini.